per conoscere meglio le nostre sorti attraverso l'oroscopo e sapere quali siano i tratti più evidenti della nostra personalità secondo l'astrologia bisognerebbe sempre combinare il proprio segno zodiacale nella casa del sole ovvero quello in posizione principale con l'ascendente ovvero quel segno zodiacale che stava sorgendo al momento esatto della nascita che si calcola attraverso il giorno e l'ora precisa di quando si è nati prima di scoprire tutto ciò che riguarda un ascendente particolare quello della riete ripassiamo brevemente le caratteristiche specifiche di ogni segno zodiacale il tuo browser non può visualizzare questo video video di lorenzo marcheschi come accennato oggi vedremo nel dettaglio pregi difetti e affinità in amore dell'ascendente ariete energico vivace e intraprendente la riete si distingue nello zodiaco per il suo coraggio e la sua passionalità questi aspetti però possono essere esaltati o attenuati a seconda del segno zodiacale con cui si combina la riete come segno zodiacale sono del segno della riete i nati dal 21 marzo al 20 aprile insieme a leone e sagittario la riete fa parte dei segni zodiacali di fuoco ed è influenzato direttamente dal pianeta marte simbolo di energia impulsività che dice molto dell'indole guerriera e passionale della riete specialmente in amore infatti chi è nato sotto questo segno zodiacale è famoso per la sua vitalità coraggio e intraprendenza dotati anche di un particolare ottimismo gli ariete sono sempre pronti ad accettare nuove sfide che affrontano con determinazione e caparbietà inoltre la loro forza interiore si traduce anche in spontaneità e personalità che combinano nei diversi ambiti della vita sia sul lavoro che nelle relazioni d'amore e non tuttavia l'entusiasmo mostrato spesso da una riete rispetto alle novità e alle scelte può diventare indice di impulsività e ingenuità oltre a ciò la caparbietà che questo segno impiega per svolgere qualsiasi cosa rischia in certe occasioni di trasformarsi in impazienza infine la riete presenta alcune caratteristiche tipiche degli altri segni di fuoco per esempio rivela abbastanza di frequente la sua forte competitività e in vari casi può essere anche irascibile e aggressivo proprio come il leone il sagittario vedi anche cancro ascendente ariete la personalità in cui convivono passione e ragione ascendente leone personalità e principali caratteristiche ascendente scorpione personalità e principali caratteristiche tutte le caratteristiche della riete come ascendente molti dei pregi e dei difetti della riete rimangono anche quando si trova in posizione d'ascendente così l'ascendente ariete è celebre per la sua indole forte e decisa energica e piena di vita che impiega in qualsiasi circostanza tra le sue qualità non si può non nominare il coraggio la fierezza d'animo l'intraprendenza e la fiducia in se stessi queste caratteristiche fanno sì che chi ha la riete nella propria mappa zodiacale non si tiri mai indietro di fronte a una difficoltà anzi le affronta con determinazione imparando dagli eventuali errori e rialzandosi sempre a ogni caduta potremmo dire che l'ascendente ariete sia l'opposto di quello della bilancia la diplomazia non è proprio nella sua indole anzi ha uno spirito diretto e spigliato preferisce parlare chiaramente dicendo tutto quello che gli passa per la testa senza ricorrere a mediazioni o sotterfugi l'onestà che sia vista come positiva o negativa è uno dei tratti principali della sua personalità ciò non significa che l'ascendente ariete non abbia anche dei difetti resta l'impulsività tipica del segno oltre all'impazienza e a una scontrosità latente che spesso preme per palesarsi l'estrema fiducia nelle proprie capacità può portarli a un forte egocentrismo e all'impossibilità di scendere a compromessi ovviamente tutto ciò può essere esaltato o attenuato dal segno zodiacale con cui si combina l'ascendente l'ascendente ariete in amore in amore l'ascendente ariete mantiene la sua alta dose di personalità e sensualità come il sagittario e lo scorpione all'inizio anche l'ariete tende a essere inclina storie basate più che altro sull'attrazione fisica e ad avventure di breve durata con un'elevata carica erotica quando decide di legarsi a qualcuno è perché è davvero innamorato e lo fa abbassando le sue barriere infatti nonostante l'ariete sia un segno molto socievole come il suo fratello leone fa avvicinare alla sua interiorità solo poche persone anche in una relazione seria la componente fisica resta molto importante per questo segno passionalità ed erotismo sono all'ordine del giorno facendo dell'ariete uno dei segni più focossi dello zodiaco nella coppia ha bisogno di un partner che sappia capire e accettare la sua indole indipendente senza intrappolarlo in una routine troppo serrata d'altra parte però non è disposto ad accettare la condivisione del compagno o della compagna con altri per questo non sono rari gli episodi di gelosia normalmente forma un ottimo match con i gemelli che sono in grado di lasciargli la libertà di cui ha bisogno così come l'acquario c'è una buona compatibilità anche con sagittario leone e bilancia ma tutto dipenderà dal segno zodiacale presente in posizione principale l'influenza dell'ascendente ariete sulla salute alcuni studi di astrologia e dell'oroscopo hanno dimostrato come i segni presenti della mappa zodiacale di ogni persona influiscano non solo sul suo comportamento sui suoi interessi e sull'affinità in amore ma anche sulla sua salute questo vale sia per il segno zodiacale vero e proprio che per l'ascendente nel caso dell'ariete si può dire che esso conferisca ai nativi una salute abbastanza buona e resistente ma potrebbe risentire di alcuni disturbi correlati all'eccessiva impulsività del segno per esempio non sono rari casi di infiammazioni mal di testa insonnia e altri disturbi dovuti allo stress le parti del corpo più colpite tendono a essere gli occhi la bocca i denti e si nota una propensione all'acne sempre come sfogo psicosomatico in generale però gli ascendente ariete hanno una buona capacità di ripresa riuscendo a guarire e a rimettersi in forma in poco tempo l'ascendente ariete in rapporto agli altri segni zodiacali per conoscere appieno una personalità bisogna analizzare la combinazione dell'ascendente ariete con gli altri segni zodiacali che si possono trovare nella posizione del sole così abbiamo stilato una breve sintesi su tutti i possibili rapporti cerca il tuo segno e scopri quali aspetti vengono messi in risalto o attenuati dalla grande influenza dell'ariete ariete una persona ariete con ascendente ariete può vedere aumentate o attenuate le caratteristiche principali della sua personalità in generale si notano un'estrema sicurezza in se stessi e coraggio non c'è tempo per le esitazioni questo nativo sente sempre il bisogno di prendere in mano direttamente la situazione dotato di molto fascino un'ariete ascendente ariete è estremamente passionale ma attenzione all'impulsività e all'arroganza toro la determinazione del toro viene rafforzata dall'intraprendenza dell'ascendente ariete questa combinazione poi risulta essere positiva perché l'impulsività del segno di fuoco è mitigata dalla riflessività di quello di terra in amore tende a prevalere la propensione alle relazioni stabili tipiche del toro ma l'ariete dona un tocco in più di passionalità gemelli se sei un gemelli ascendente ariete allora sai che il tuo segno è uno dei più indipendenti dello zodiaco non sopporti molto bene le critiche e i condizionamenti per questo ami lavorare da sola e viaggiare in giro per il mondo senza alcuna restrizione lo stesso vale anche per la vita di coppia prima di sottostare ai bisogni di qualcun altro dovrà innamorarti davvero cancro che cosa succede quando il romantico segno della luna il cancro incontra quello focosso di marte l'ariete come ascendente si tratta di una combinazione non scontata il segno di fuoco da al cancro una dose in più di ambizione e tenacia che lo porta a diversi risultati in ambito lavorativo d'altro canto però viene smorzata la scontrosità dell'ariete dalla forte sensibilità del segno d'acqua leone se sei leone con ascendente ariete normalmente vieni considerata come il vero spirito di una festa il tuo spirito di iniziativa dinamismo e la tua simpatia sono noti a tutti non puoi mai passare inosservata in amore dimostri una passionalità senza pari ma pecchi talvolta in gelosia ed estrema possessività vergine una persona vergine con ascendente ariete vede mescolarsi due caratteri quasi agli opposti in un'unica personalità infatti la riflessività e la maniacale organizzazione della vergine sono leggermente attenuate e regolarizzate dall'impulsività del segno di fuoco tutto ciò può portare a dei successi sul lavoro nelle relazioni amorose invece c'è più incertezza dovuta soprattutto a una dicotomia interna tra avventure storie serie e durature bilancia secondo l'oroscopo non ci sono dubbi quello tra bilancia e l'ascendente ariete è un ottimo connubio dotati di grande fascino vitalità e propensione artistica questi soggetti sanno sicuramente farsi apprezzare la diplomazia della bilancia mitiga un po la schiettezza della riete nella vita di coppia si mescolano dolcezza e passionalità scorpione una personalità tutt'altro che semplice quella dello scorpione con ascendente ariete queste persone sono molto coraggiose amanti della vita refrattari alle regole e alle critiche tanto da preferire il lavoro autonomo amano viaggiare e scoprire il mondo tollerano male i legami troppo stretti in amore c'è tanta passione quanta gelosia non sarà una vita di coppia semplice ma sicuramente la carica erotica è travolgente newsletter mandatori field sal femminile data controller collect this data in order to send you personalized commercial communications subject to your choices to find out more about the management of your personal data and to exercise your rights you can consult our personal data protection policy go consigli news curiosità e tanto altro sagittario una persona sagittario ascendente ariete è nota per il suo spirito ottimista spontaneo estroverso e sincero la diplomazia non ha il suo forte sostituendo la con schiettezza e onestà il suo coraggio e la sua anima positiva la portano a ottenere successi sia sul lavoro che in amore attenzione però al temperamento irascibile e geloso come tutti i segni di fuoco non perdona neanche un minimo sospetto di slealtà capricorno se sei un capricorno con ascendente ariete sicuramente sei famosa per la tua determinazione stacanovista e caparbia sei in grado di accettare sempre nuove sfide e di portarle avanti impeccabilmente cerca solo di tenere a bada il tuo lato più testardo che a volte tende prevalere in amore la riete riesce a portare più spontaneità al riflessivo capricorno ma senza sfociare in estrema impulsività acquario con un acquario ascendente ariete non ci si annoia mai la sua personalità è vivace energica molto socievole nei confronti di chi attorno è sempre pronta a imparare qualcosa di nuovo per sfuggire alle banalità della routine dal punto di vista delle relazioni prevalgono le amicizie mentre in amore si notano delle difficoltà dovute alla imprevedibilità e all'indipendenza dei due segni rispetto a legami troppo stretti pesci una combinazione non scontata quella tra i pesci e l'ascendente ariete il romanticismo e l'estrema sensibilità del segno d'acqua si mescolano alla passionalità e all'intraprendenza di quello di fuoco il nativo risulta essere molto più energico e possiede capacità professionali non indifferenti c'è più incertezza nel campo amoroso infatti ci sarà bisogno di un partner che sappia soddisfare sia il lato psichico dei pesci che quello fisico della riete